Ciao Sara, ciao Zerban Ho una domanda per voi Qual è stato il vostro ultimo bacio? Allora Zerban, inizi tu Ma è che non me lo ricordo? Ciao Sara, ciao Zerban Il tuo, vai dillo te Me lo ricordi? Sì che me lo ricordo Io a Capodanno Io di quest'anno Io tre settimane fa No, un mese fa A Tenerife, palese dai No, 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 zero Tenerife no, ma va Ma secondo te? Già non riesci con le italiane in più con le serenere Per un video? No, è reale, bacio reale Se no anch'io posso dire no No, ma hai fatto per me Sì, ok, perfetto Fra Puoi andare così Oh, vedi che sto facendo la challenge E la prima che mi bacio gli do 50 euro, ovvio Eh, adesso cosa sono? Tutte le che devo pagare No, allora un mese fa Un mese fa Ci sta, ci sta Però non dico dove, non dico dove